Gerry Scotti esce allo scoperto riguardo il suo stato di salute. Rimanete con noi per sapere cosa ha detto. Benvenuti su Quotidiano Notizie. Iscrivetevi per avere il meglio delle notizie aggiornate. Siamo qui con notizie straordinarie da condividere, riguardanti una delle figure più amate dello spettacolo italiano. È con grande gioia e sollievo che annunciamo il ritorno in forma di Gerry Scotti, il quale ha recentemente affrontato una sfida personale, un periodo di malattia che aveva destato preoccupazione tra i suoi numerosi fan e il pubblico in generale. La salute di Gerry è stata al centro delle nostre preoccupazioni, ma oggi siamo lieti di informarvi che, in un'intervista, ha dichiarato di sentirsi bene e di essere completamente ripresosi. Con determinazione e forza d'animo, ha superato con successo questa difficile prova dopo un percorso di cura e recupero. Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a Gerry Scotti per la sua resilienza e forza durante questo periodo complicato. La sua presenza in televisione è di grande valore e siamo felici di annunciare che continuerà a deliziarci con la sua simpatia e il suo talento. In momenti come questi, è fondamentale mostrare solidarietà e affetto verso le persone a cui teniamo. Pertanto, vi incoraggiamo a condividere questo video e a lasciare un messaggio di sostegno per Gerry nei commenti qui sotto. La sua salute rimane una priorità e il vostro affetto fa la differenza. Ringraziamo tutti voi per aver guardato questo video e vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un mi piace. Grazie di cuore. Grazie. Grazie.